Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione in diretta su Telebari e Radio Bari. In primo piano la sanità, dopo 12 anni di attesa al Policlinico di Bari viene inaugurata la medicina nucleare e radioterapia. Al taglio del nastro era presente anche il governatore Michele Emiliano. Vediamo. Quasi 12 anni dall'approvazione del progetto definitivo, un quadro economico lievitato col passare del tempo, mentre nel frattempo i pazienti continuavano a entrare in un tir per essere sottoposti a una PET. Il Policlinico di Bari inaugura la nuova medicina nucleare e radioterapia, una delle sezioni più importanti del nuovo complesso chirurgico dell'emergenza, meglio noto come Asclepius II. Probabilmente tra i centri più grandi d'Europa in questa disciplina, la cui realizzazione però è stata una vera e propria odissea. Dal dicembre 2005, data di approvazione del progetto da oltre 16 milioni, già nel 2009 fu necessaria una rideterminazione del quadro economico per la sostituzione del ciclotrone con un altro acceleratore. L'effettivo inizio dei lavori però avveniva il 28 gennaio del 2008. Nel 2013 veniva approvato un progetto per opere complementari da 4 milioni e 600 mila euro con una perizia di variante da oltre 700 mila euro. Nel febbraio 2005 vengono ultimati finalmente i lavori, qui segue un aggiornamento delle attrezzature indispensabile che assieme al data center aggiunge oltre 2 milioni all'importo complessivo. Altri contrattempi portano ad oggi data di inaugurazione di Asclepius II e posa della prima pietra di Asclepius III, nuovo complesso che si aggiungerà a quello già presente, sperando che questa volta si rispettino i tre anni previsti per i lavori. Per sette anni i lavori sono stati fermi, dal 2006 sono ripresi, si è previsto di raddoppiare le attrezzature e poi i tempi sono diventati coerretti dopo la prima fase di blocco. Ho sempre ritenuto, pur non essendo uno specialista della sanità, di mantenere la delega e la sanità per consentire ai direttori generali di lavorare in piena libertà senza rotture di scatole. Non avere rotture di scatole spesso accelera anche i lavori pubblici. Un altro incendio in città questa mattina ha coinvolto stradella San Pasquale, parallela di via Alberotanza. Prendere fuoco sarebbero state delle sterpaglie, il rogo ha creato una densa nuve di fumo che ha invaso buona parte dei quartieri San Pasquale. Mungivacca, sul posto per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Andiamo a Palazzo di Città, si torna a parlare di Stadio San Nicola, in Commissione Trasparenza ha convocati l'assessore Petruzzelli e la dirigente Marisa Lupelli per chiarire alcune questioni inerenti al verbale di consegna e al verbale, è un probabile, scusate, contenzioso tra la società Biancorossa e il Comune. Non esiste un verbale di consegna tra il Comune di Bari e l'Associazione Sportiva Bari, sia sotto la gestione Paparezza che sotto la gestione Giancaspro. Quindi non essendoci questo atto che avviene anche nei contratti di locazione semplici, non si sa come è stato consegnato il bene immobile. È tutto da verificare e questo è solo il primo dei tanti punti discussi in Commissione Trasparenza in cui sono stati convocati l'assessore di competenza Pietro Petruzzelli e la dirigente della ripartizione Cultura e Sport che si sbilancia quando si inizia a parlare di contenzioso, ovvero dei famosi 2 milioni di euro che il presidente della FC Bari 1908, Cosmo Giancaspro, avrebbe richiesto al Comune come rimborso per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati in questi anni. Ecco, la dirigente in Commissione Trasparenza ha riportato, ha detto che al momento sono state millantate queste richieste sulla stampa e tra il millantare e le dichiarazioni ufficiali c'è di mezzo il mare. Non esiste un contenzioso. Pietro Petruzzelli smorza i toni, tanto da paragonare il rapporto tra Comune e società a una lunga storia d'amore. Quei lavori dichiarati vanno congruiti prima di poter, come dire, affermare con esattezza qual è la mole dei lavori realizzati, ma è tutt'altro rispetto a un contenzioso. Non è una cosa che ad oggi c'è. Verranno fatte delle verifiche in questo senso per quanto riguarda i lavori che la società dice di aver fatto? Ma questa è una cosa su cui l'IVOP, la ripartizione dove vi sono le competenze tecniche, naturalmente effettuerà una valutazione sulla congruità dei lavori. Ma il rapporto con la società è un rapporto diciamo armonioso. Poi avete in passato a volte si litiga come due fidanzati prima che scoppi l'amore. Ma questo ci sta. 200 milioni di euro in mutui per costruire, ristrutturare e potenziare le strutture sportive comunali. Presentato ai sindaci pugliesi il protocollo d'intesa nazionale Sport Missione Comune è stipulato Franci e Istituto per il Credito Sportivo. Con il coinvolgimento del CONI i finanziamenti possono essere destinati anche a impianti sportivi scolastici o all'acquisto di attrezzature sportive nonché alla realizzazione di punti sport e piste ciclabili. Sarà possibile inoltre presentare domanda dal 6 al 28 settembre. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web creditosportivo.it. E siamo alla cronaca. I carabinieri di Rutigliano hanno arrestato un 42enne del posto con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione dell'uomo i militari hanno rinvenuto una vera e propria serra con piante di marijuana alte fino a un metro e mezzo. Sequestrati anche 25 kg di foglie di cannabis già essiccate e tutta l'attrezzatura per il taglio del fogliame. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. Il prossimo 15 settembre il Governo nazionale e poste italiane presenteranno il nuovo francobollo dedicato a San Nicola. Ad annunciarlo il deputato barese Alberto Losacco. Il prossimo 15 settembre verrà presentato il nuovo francobollo a Bari dedicato al nostro santo San Nicola in collaborazione fra il Governo e poste italiane. Come è nata questa idea? Perché in questa fase sentiamo l'esigenza di sottolineare il rapporto della base di San Nicola con la nostra città e non solo con la nostra città. Nelle ultime settimane abbiamo visto quello che è successo in Russia per l'arrivo delle reliquie di San Nicola. Ci sono state code chilometriche che hanno accolto il nostro santo e abbiamo sentito che ci può essere un ritorno formidabile anche in termini turistici. Ci sono in piedi iniziative anche per cercare di organizzare dei voli di linea fissi, almeno settimanali, con Mosca, ripristinandoli. In alcuni periodi li abbiamo avuti ma dovremmo cercare di averli sempre, appunto settimanalmente almeno. È un'iniziativa che il Governo ha voluto sposare, è importante. I francobolli forse sono un po' anacronistici ma questo è un francobollo celebrativo e serve per sottolineare l'importanza che il nostro santo ha per la nostra città e non solo per la nostra città. I cittadini di Carbonara protestano in via esonso per l'installazione di una nuova antenna. Chiedono chiarezza all'amministrazione comunale. Una struttura bianca simile a un comignolo, uno striscione appeso a un balcone, la vidità avvelena i vostri figli. I cittadini di Carbonara alzano la voce e vogliono verità sull'inalzamento sullo stabile di un privato di una nuova antenna nascosta da una copertura in metallo e inalzata nel giro di poche ore lo scorso luglio. Più di 100 persone si sono radunate per raccogliere le voci del quartiere e rivolgere i propri dubbi all'amministrazione comunale che segue l'iter autorizzativo per l'installazione di questi impianti. E se alcuni hanno scelto la satira web per commentare la nuova installazione, c'è chi preoccupato ha già scelto di abbandonare il proprio appartamento. Io mi sono vista costretta ad allontanare mia figlia in premessa. Ci siamo allarmati perché prima di tutto è un'antenna camuffata che è stata costruita alle prime ore dell'alba di martedì 4 luglio e non abbiamo ricevuto nessun tipo di spiegazione né dagli operai che hanno montato, hanno eretto questa antenna e né tanto meno dalle persone che hanno voluto costruirle. Ovviamente scuole, asili, io personalmente che abito qua e che mi sono sposata penso domani di allargare la famiglia ma è proprio diventata un'inconvenza. Dal comune di Bari fanno sapere che sono in corso delle verifiche per capire se ciò che è stato realizzato sia conforme a quanto dichiarato, in attesa che si faccia chiarezza sulla distribuzione sul territorio di questi impianti. E siamo alla pagina sportiva, tutto pronto per il Red Bull Cliff Diving, la manifestazione di tuffi da grande altezza che si terrà il prossimo weekend a Polignano a mare. Questa mattina gli atleti in gara erano allo stadio del nuoto per prepararsi alla competizione. Campioni provenienti da ogni angolo del mondo pronti a tuffarsi dalla scogliera di Polignano a mare davanti a migliaia di spettatori. Torna in Puglia il 22 e il 23 luglio l'ormai consueto appuntamento con il Red Bull Cliff Diving, il campionato mondiale di tuffi da grandi altezze. A Polignano per la quinta volta unica tappa italiana andrà in scena il terzo atto della stagione 2017. Atleti e atlete si tufferanno da una terrazza privata dove saranno allestite due piattaforme posizionate a 27 e 21 metri d'altezza. Questa mattina i tuffatori sono stati ospiti dello stadio del nuoto di Bari, dove hanno potuto allenarsi per affrontare la sfida con il massimo impegno. Ogni anno, ogni volta che vengo da Polignano, li porto qui alla piscina comunale proprio per dare a loro la possibilità di riscaldarsi e quindi di stare bene fra di loro, si chiacchiera un po' di più eccetera. Quindi diventa un'arena molto ideale per riscaldarsi. Tra i protagonisti della manifestazione è il cosentino Alessandro De Rose, 25enne atleta della Trieste Tuffi, unico italiano in gara con il compito di tenere alta la bandiera della nostra nazionale. La location è strepitosa, giocare in casa di solito rende più forti qualsiasi giocatore. L'obiettivo non mi voglio sbilanciare troppo, diciamo entrare in finale. E per questa edizione è tutto, in chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet radiobari.net e telebari.it per tutte le vostre segnalazioni, il nostro indirizzo di posta dedicato infochiocciola e il segno di zorro.it. Ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di questo venerdì l'alta pressione perderà leggermente forza sul nord Italia, favorendo rovesci temporaleschi e pomeridiani su Alpi e Prealpi e localmente sull'Alta Valpadana. Ancora prevalenza di bel tempo invece al centro-sud. Lo notiamo anche nel dettaglio relativo alla nuvolosità, con un cielo in gran parte sereno poco nuvoloso sulle nostre regioni centro-meridionali. Qualche nuvola in più transiterà invece al centro e al nord a densamenti che risulteranno anche consistenti al pomeriggio su Alpi e Prealpi e saranno questi responsabili di fenomeni localmente temporaleschi. Vediamo quindi tutti i dettagli relativo allo stivale con un cielo sereno poco nuvoloso su gran parte della penisola. Ecco la nuvolosità di cui vi parlavo poc'anzi. Responsabile di rovesci anche a carattere temporalesco nel corso del pomeriggio, sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure piemontesi e lombarde. Ancora gran caldo sulla Valpadana centro-orientale e le zone interne del centro-sud con punte fino a 36 gradi, anche a 38 al meridione. Più fresco lungo le coste grazie ai venti di brezza. Con questo è tutto per aggiornamenti dettagliati e le prime anticipazioni sul weekend scaricate l'app di Trebimeteo. Grazie a tutti.